ciao a tutti oggi prepareremo le dette di monaca il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa ingredienti sono uova a temperatura ambiente mix africano acqua a temperatura ambiente e aroma di vaniglia per farcire crema chantilly diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame mettere le uova il mix africano l'acqua e l'aroma di vaniglia e azioniamo il bimbi senza misurino per 10 minuti a velocità 3,5 abbiamo preso una sacca a posce abbiamo effettuato un taglio per ricavare un'apertura del diametro di 3 centimetri trasferiamo il composto all'interno della sacca a posce cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi con lo sportello leggermente aperto per 20-25 minuti le dette di monaca sono cotte ancora calde effettuiamo un foro sul fondo e con la crema chantilly che abbiamo messo in una sacca a posce andremo a farcirle dopo averle farcite tutte trasferirle in pirottini per muffin spolverizzare con zucchero a velo lasciare raffreddare e servire tette di monaca grazie e alla prossima ricetta grazie 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 grazie